Fortunato. Meno male che mi chiamo Fortunato, altrimenti che mi sarebbe capitato. Stavo in chiesa accanto a un candeliere votivo e pregavo intensamente. Avevo tanto bisogno di Dio. Dopo non so quanto, una vecchietta che pregava dietro di me mi tocca la spalla e mi grida Signore, Signore, le si stanno bruciando i capelli. Adesso ho i capelli rapati a zero. Com'è possibile che non mi ero accorto che i miei capelli bruciavano? Commento. Quando ritiriamo la nostra consapevolezza nei piani superiori di esistenza, come nel caso della preghiera intensa, nella sezione della mente che alcuni chiamano mente supernormale, che è vicina per densità di materia ai primi sottopiani della coscienza, ci assentiamo dal piano fisico in una specie di anestesia spirituale.